Due amici vicini di casa la mattina si incontrano in ascensore e uno fa Oh, ieri sera ho sentito un bel movimento lì da te. Eh sì, sai, con mia moglie adesso siamo un po' perversi, facciamo giochi erotici. Ieri sera, pensa, ho preso il baratto della Nutella, gliel'ho spalmato tutto sopra e poi ho cominciato a leccarla. Ah sì, infatti ho sentito le urla di tua moglie, sì. Eh sì, ha urlato tanto. E quando mi son pulito la bocca sulle tende? Se ti è piaciuto il mio video e vuoi vederne altri, iscriviti al mio canale YouTube cliccando sull'icona qui a destra. Ah, dimenticavo, è gratis.